ciao a tutti ragazzi in questo video di fortnite lasciate e iscrivetevi al canale salutate voi due ciao ragazzi dal vostro odio eros e anex legend e fede 2 ammiratela ammiratela da ben ammiratela grazie grazie ma che dai mi chimi film comunque ok ragazzi tutti al centro della cacca e della mappa al centro della cacca mi metto i pantaloni io sono i pantaloni che deve andare a un festival no è normale io devo buttare il cacca nella mia nonna no ragazzi siamo in live siamo in live ragazzi facciamo che ci incontriamo tutti con una barca tutti qua il nostro posto barca io ho già trovato la barca anche io ok fede tu vai in alta barca sennò vai a piedi raga e fede hai una barca? no ancora no vai al centro e ballavi va bene non arrivavamo ci conoscevamo tu vuoi fare una cosa ok? no fede dove sei? no al centro cosa fai? una cosa? no devi tornare subito bene ok raga facciamo questo film mettete il segno da uno motoscopo lo vedete ma che all'armo qui scopo? facciamo casinotto eh? chi come fa che non vuole tornare? vieni vieni al centro eh? aspetta arrivo subito questo è una motoscopo no ci serve vai al centro vai al centro vai al centro dobbia stare viola no al centro è creativa raga tutti a shag fede non capisce al centro di quella cosa viola devi andare la no solo c'è non mirate sopra la barca stavo pure affogando ah mirate fede vuoi tornare eh? una dark polo bang dai la la ora dopo gioca anche a mio cugino quando fede va fede vuoi tornare o no? aspetta 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 e aspera fede vorrei mano posto vorrei ma c'è un lama tosto quando è stato arriverà vieni qua al centro creativa al centro di qualcosa viola bella mappa al centro della mappa mario mario guardo e vado qua ok adesso a te le mani la fermo balla molto da ballo che rega andiamo? che coniamo la fede? parcheggiamo qua io parcheggio qua c'è anche un'altra barca noi amici dai speriamo ehi tu dark angelo ciao dark ciao dark jonesy ciao dark jonesy comunque vi faccio male ora neo ciao come vi chiamate? mi chiamo come si chiama raga? triccio rossa io amo jonesy dark jonesy io dark angelo che facciamo? amici andiamo a fare un giro con la mia barca nuova tu l'hai comprata ieri andiamo tutti così ragazzi io ho la patenti da due anni io anch'io ce la so che è quella di mio cugino dobbiamo andare tutti così felici in questo modo guardate e ammirate mi tiene una palla no sbagliato 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 raga sbagliato dobbiamo andare tutti in questo modo aspetta aspetta stai fermo non lo voglio vai non lo voglio non lo voglio fai il mimic eh? il mimic sai cosa è mimic? stiamo pure in live stiamo pure in live beh e noi andiamo aspettiamolo talento questa? si vai andiamo si vai andiamo si guido io ragazzi qui sopra la barca no non è metto su questo coso mi sta invitando Vamos dico ma c'è una cosa però devo mancare un altro accento puoi farla no no tu mi rimani non devi uscire faile però perché tra poco fai il bug allora raga dobbiamo noi ci chiameremo la dark polo gang facciamo tutti i balli da pazzi fai le quali fai le balano sfoghiamoci un po faile non riesco a fare i mimi passiamo questo cerchio di fuoco raga quando è finita la live urliamo tutti scu 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 wahoo iiii wuuu perde a perfect timing raga ecco eh quando fai le va via giochiamo con enzo ok raga però ci dobbiamo chiamare dark jonesy dark angelo e dark triccioratopa andiamo dove noi siamo naci raga siiii vieni al cubo io sono scuro anch'io anch'io quindi mi devo prendere power up ma ora per al cubo ah con la sua arma cavalca moto scafo raga ho preso i power up l'acqua l'acqua mi fa male raga no anche a me raga mi fa male pure alle le va ah ah oddio stavo ancora ballando non riesco a saltare qui mi passo da qua sono parte il sole brucia il sole brucia mi merito prendo power up avete sentito questo rumore eh sta venendo la pelle blocca la pelle blocca ah dove andiamo che cavolo adesso guarda me aiuto raga l'ho prende a tenere in mano una per un uomo se ne prendilo quella è la rispetta si pressa pressa ah che cosa chieda che qua la butta la una no raga io ho uno scudone ah eh no è troppo grande si vede dark pole gang raga no lo sto bruciando noi ci dobbiamo chiamare come i nostri veri nooo dai vai dark angelo vieni a prendere la stupenda raga bevo un po' d'acqua io vado a assaporare un po' il sapore del cubo andiamo a assaporarcelo ah che bello ah cubo mi sto illuminando mi sto illuminando mi sto illuminando non è vero non ci rubrucia mi prendo due power up si si vola con il nostro per cubo e ce ne andiamo via da qua ragazzi vedete tutti qua da me dobbiamo usare questa zipline andare tutti a corso commercio a spaccare il culo a tutti ah ah brucia brucia noi siamo dark abbiamo detto ma siamo mica degli oscuri ah 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 scotta no 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 non è vero scotta 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 raga i vampiri vado in bagno no devo andare io in bagno via vado io vado io no vado io sono già entrato vado io anche io sono entrato voi nessuno di voi ha questo ballo raga nessuno di voi sa fare questo ballo a piatta per fare ah si raga lo sai che lo faccio io mi faccio polle quindi mi distrago voi non sapete fare questo che fate aiuto devo andare in bagno eh vieni dal calcio vieni ok ciao a pipì facciamo che facciamo che che c'eravamo fidanzati vero che ecco per finta ah no come la posso andare io che c'eravamo fidanzati in questo momento per finta quanto ti durano anche la sua cosa possiamo scendere tutta questa cosa sì che ho avuto ok vero dark angelo che dobbiamo dire una cosa a fede e sì a dark jonesy dark jonesy jonesy fiumani ma noi raga dove capitevamo eh a foschi fumaglioli sono letti però che ho visto un sacchetto che mi stavo vedendo no ok ok va bene si va bene guardi che avevi detto però fai non ho capito che mi sto vedendo non sto andando cioè ma ok che mi sto vedendo non è che sto andando in giro ecco ma qua la acqua è bassissima non so ok ecco la acqua diventa più alta ecco guarda guarda no funzionava come va bene vado a fare un cielo ciao Leo 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 guarda è dark non è basso io bevo ok facciamo che tu ci stavi spiando noi però non lo sapevamo cosa ci stavi spiando ok tu ci stavi spiando adesso vai via ciao jonesy puoi andare via grazie va bene ciao I see you aspettiamo un autobus per andare a casa nostra che sarebbe al lago languido la tua casa è foschife sappiamo che sei là dietro no la sua casa è sempre a languido la sua casa ok andiamo al lago languido l'anquido non l'anquido ha detto ok ma raga sto andando ok raga raga quando finisce la live urliamo tutti scu 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 ok leo ok raga raga voglio un attimo tornare al centro fare una cosa ok no no non puoi va bene va bene va bene non fare i bug dei permessi tanto non c'è più se lo posso fare se lo sai no non puoi hanno tolto pure il tuo no allora allora com'è è tipo di mettere un brutto fuori dal coso giallo e entrare sui promessi qual'è questo scena e avviare e fare siamo pure in live se neanche non è questo il bug allora perchè hai fatto quello sono in season ex e season 9 proprio eh si il brutto quando è venuto season 10 e season 9 allora e allora non c'è più lo posso fare quindi si c'è il creativo c'è il creativo c'è quindi puoi fare un altro clip che voi non sapete fare checco io sto mangiando i clip sono bannabili appunto e perchè mi erano fatti tipo troppi non mi hanno ancora bannato sono bug fede fede checco mi senti basso oppure alto? basso perchè sto mangiando quindi vediamo in qualche mano a mangiare leo cavalchiamo e lancerà zi? c'ho l'hai? si perché vieni vieni bene la testa verso lago aspetta lago è laggiù no qui qui vieni qua non arrivi più più lontano se lo fai da sopra la scala allora fai più a un pavimento io posso passare mi mirami in cielo in alto in alto ok raga ecco no la di la di la ok qui in alto vai su la tua testa un po' in alto così si qual'è però? raga hai preso un'arma quando io sto prendendo una cosa ecco non facciamo una cosa non lo sai fare non ci posso credere ecco inceneriamoci non è meglio raga eh lo sapete? lo avete sentito funcina cosa? eh voi spes... voi potete spescare lo so leggendario è pescato il pesce leggendario no scar dico come? scar leggendario oh quanto fucile è baby? me ne porti lo scar è il pesce ok no è mio lo scar ma scusa no allora portami lo scar quale scar perchè lo tu hai tu? ecco io arrivo qua e mi metto un po' a speccato cioè perché io stavo dormendo per vita e io che dovevo mangiare e io che stavo in pericolo no no tu stai qui tu stai qui guardando la previsione no stavo stavo spiando fede sta pure si fede sulla mappa si fede sulla mappa fede sei sulla mappa no io te l'ho detto perchè non ti vedo allora nooo va bene va bene ciao ma cosa ciao la mamma va sta andando a mia nonna eh? e tu come vai? con virginia allora vai da solo? no con virginia e ti ricordi la volta con virginia? eravamo da soli e lei dormiva e io ero creepy che cosa c'ho? ok uh mitico goldfish baby cosa? solo mitico goldfish mitico goldfish veramente? no veramente scherzo è solo un colono e vado a pescare io con la fiocchina perché vado a pescare? certo è solo al lago con la guido ahi ai ai è molto difficil-difficulito difficil-diffic- ora che stavo tumendo? si stavo fatto in bagno ok flutter shhh ma anche troppo ma non c'è ma non c'è ho messo di l'hozzare la giocchina sugi io beeeest perchè c'è un buon lama c'è un lama stai andando a vedere un buon lama vedendo una roba Leo che mangi? scar...lensendary scar...lensendary che mangi? non cantare in live Leo perchè sei vedendo in live oh un patatico blu ah due due pesci quanti pesci? ho solo una fiocchina ma io ho questa scarpa ho trovato una camera ah un altro fiocchino pompa legendary baby quante fiocchine ho? tre fiocchine se raga hai perso la pompa legendaria oh yeah chi è che mi vede adesso? io le mangio vedo non è finito cosa? di mangiare ha finito ma che è l'altro che mi vede? כל gu,bo,bo,po dom andiamo same baby ragai io sono la chichi la chichi ve lo dico perché perchè lancia ragzi Non sai manco dirlo, Bibbine, Bibbine, Leo devi fare un provino, e lo facciamo di nuovo in live, quante fiocchine pesco, quante fiocchine ho, butto la sal, non ti sento, mi dispiace, me ne dai una, oh, lago, chi vuole il misto da, eh, me ne dai una, si, tieni, oh, ho pescato un pesce babilisce, un pesce babilisce, non cantare i live, non ho detto, ho detto, ho che non te canta in live, perchè, perchè questo, oh, 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 non ci posso credere ma allora no ecco facciamo che io dicevo aiuto e tu mi venivi a soccorrere si per cosa aiuto c'è la fede che mi stava spiando fede vai da spy spy mister spy 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 spiare e raga tutti i hashtag fede inglese i spy from my little leo scrivi che in live scrive hashtag fede inglese raga voi siete molto lontani bella leo vabbè 400 metri che non stai facendo non live wow che non lo sapevi e tu non la cazzo non facendo perché pensavo che era vero che non era vero il raga parte raga tutti i hashtag confuso fede confuso raga c'ho sta coca in mezzo che si mette nei messaggi in faccia fede confuso aiuto sto arrivando sto arrivando sto arrivando è finito è finito i spy i spy on my eye è big leonardo aiuto aiuto eccomi qua eh dark angelo sta arrivando il tuo amico dark jonesy no fede non builda dark jonesy non si builda spaccone spaccone no fede spacca no no mi sparate raga vi servono materiali per potenziare nel santo blu fede vuoi fare un bug quello bug adicare tu ti devi generare devi spammare l'igenerazione vai ok ok ti devi spammare dai si rompe sempre la cia patta che consuluto mamma mia assoluto assoluto e mezzo se non ti piace bacca ma su qua non è giusto dai si è scherzata lorino decidi decidi cosa vuoi pompa oppure scar no uno dei due no io voglio pompa lo scar io voglio lo scar vabbè raga tanto non siamo reali quindi cosa che fai che cosa che mi metti si arrabbiati ragazzi facciamo che fai poteva ritornare adesso va bene fai io potenziamo l'arma ok dove sta l'arcogione si ci sei ancora oppure sei morto sono ritornato per fortuna dove eri io stavo facendo la cacca e io stavo pescando ok andiamo a farci un giro cosa trovo stavolta ancora c'è starma e ancora ti trattivo ti trattivo con lui ok va bene fede ma non posso ok ma non possiamo più pescare quello che fa schifo ci devo chiedere una cosa dark jonesy cosa vedi ok aspetta non devi sparare fede eh d'ang scusa d'angelo non voglio stare più con te ho deciso sto con lui quindi tu puoi andarti anche via grazie andiamo a scena in mia dark jonesy ok andiamo a prendere la barca ok ma che guida io ciao dark sta piantando sta piantando dark eh lo so è da prendo no ah uh flopper è pronto sì tu sei al stack d'arcangelo ecco eh non fa niente tanto dopo facciamo che dopo forse mi rimettevo insieme a te poi rimuo insieme a fede assetta no poi sai che facevi poi dicevi gli dovevo dire una cosa è uno scherzo ah ok ma un patatic ma frede ma frede dici una cosa e poi poi non lo sentiamo più l'altra parase e dopo un patac e dopo un patatic e noi non lo avevamo sentito pompa tattico scendi scendi dark ok scesso l'arcangelo te lo datevo di una cosa era uno scherzo che cosa ho sentito io niente niente l'ho sentito dire una cosa è che noi eravamo amici vero che ecco sì e tu eri fidanzato ma se io vi vedo un'altra volta io vi sparo io ti ho no che fede allora facciamo che riusci a vedere tu e tu scappavi via piangendo per finta perché tu pure piangistei pure tu piangistei fede guardami ecco io a me sarebbe qualcosa da tenere in mano ok l'ho visti io non ce l'ho primi sti balli non anch'io andiamo a vedere l'arcangelo e si cosa sta facendo raga tutti gli hashtag darkjonesi deluso io che ancora non posso perché adesso vengo anche a live darkjonesi ti diamo un attimo a parlare oh no devo mettere via ok ti devo dire una cosa ok allora forse quella cosa che avevo fatto prima ci vedremo un'altra volta se noi ci lasciamo vero? sì non ti mettere a piangere per finta nonno sparecchia nonno oh no questo scappato via sì attiva adesso c'è la mia casa andiamo da lui andiamo da piano ah ci dovremmo essere in quattro con Franci cavolo Franci non ha quella skin e lo so però dovevamo tipo normalmente io mi siedo no no io mi siedo e che fa che guardi la tv a terra? no ho visto darkjonesi in questa casa fa silenzio io dormo qua facciamo che tu non ci rientri mi entra piano piano chiudi piano piano la porta no in un vicolo cieco siamo andati mi metto la mia preferita musica ok è qui è qui è qui si è andata da qua oddio voglio voglio lavarmi le cose scappa 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 sceltini che è con sceltini dove sta? oddio dormo dormo qua il divano ok scappa 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 più che non posso ma che bella villa che ha ora io vado a chiedere io vado a chiedere se vuole essere mio fidanzato va bene tu devi dire no però che ecco no va bene va bene tanto non mi importa anche se tu sei anche più ricco stai al metto ora qua ogni volta cambia posto di letto no la porta è chiusa vieni qua vieni qua piano piano vieni non fare troppo rumore bravo oh c'è giovane si che c'è per fare questa cosa vieni 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 ci lascio i tuoi soldi a te no no non è qui non è qui non è qui è qui è qui sono caduto oddio lo vedo è qui è qui che bella giornata ora ok qualcuno è la stai la guarda che ho finta che raga non è per davvero nemici ok raga per davvero strigionato pa il razzo è voluto partire il razzo strigionato pa il razzo è patto l'arc strigionato pa hai visto un criminale ha ucciso una persona non lo so spia sta uccidendo stanno andando nella città di mio fratello chi è sparato leone fede facciamo finta che tu uccidevi mio fratello eh facciamo finta che tu uccidevi mio fratello a borgo bislacco ok facciamo finta che c'era il mio fratello a borgo no che il mio fratello e tu lo uccidevi ma la borgo chi è lui dimmi i soldi qual è il mio fratello forse lo devo uccidere qual è il mio fratello giurata dammi i soldi ora cosiddetto no ah si ora ti posso uccidere io dammi i soldi grazie ora io ok andiamo subito a sparare subito a sparare no vieni 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 qua vieni qua vieni qua guarda quanto faccio finta che c'è ok devo fare le mani in alto ah io dormo qua sotto questo è casa di mio fratello cavolo ehi tu dark jonesy che? esci fuori esci fuori esci fuori ok seguimi seguimi a me a me devi seguire ok ok cosa hai fatto sto fratello cosa hai fatto sto fratello guarda che lui mi ha rubato tutte le cose mi ha rubato questo quindi tu mi hai rubato quello non è vero bugiardo hai detto dammi i soldi dammi i soldi mi hai fatto un vocale è il mio fratello no provo a sparare la tua vita finisce adesso prova a sparare prova a sparare la tua vita finisce adesso fermo prova a sparare la tua vita finisce adesso fermo fermo ti ho detto ok fermo fermo seguimi devo quell'arma subito subito oh no lascia lascia ancora lanciarazzi ok ti ho avuto io adesso vieni con me accomodati pure nella tua trappola adesso viverei in questa casa in questa casa vai ti chiudo tutto tutto ti chiudo te la chiudo tutta non ti preoccupare ti chiudo di metterlo sì sì perché solo dopo questo qua continuo capito sì sì io vado a fare la parte di dentro sì sì vai ho preso una speciale arma che loro non lo sanno gli sparo con quelli là muo sono muoiono 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 mi interfaces muoio ma non mi arriva dopo due giorni facciamo finta che scappi dopo cinque giorni senti e bravo si si ho messo una porta che peraltro non poteva aprire perché era chiesa chiave ok dove stavo facendo la parte di sopra ecco guarda cosa che ho messo, che ho messo la trappa almeno non puoi uscire è vero ok ho avuto tanto ferro non so come anch'io anch'io dark jonesy che è? vuoi fare una passeggiatina? no grazie ok rimani qua allora c'è una trappola qua quindi stati attento io vuoi essere qua per sempre tricciorato pa tanto io c'è una segreta arma tricciorato pa vado a vedere nella casa di mio fratello se sta bene no non sta bene no non ce l'avevi dire lo devo scoprire io ditemelo quando devo scappare ok Leo si puoi scappare anche adesso mentre noi andiamo a vedere a lui poi devi andare molto lontano devi andare ti chiamavo io oddio no oddio no oddio no tricciorato pa si è morto mio fratello si ma hai subito spari è morto mio fratello è morto mio fratello ha spaccato ha spaccato tutto guarda è morto mio fratello insomma mi hai scappato non ti permettere più ha costruito una porta e mi hai tutta la trappola no non è finito adesso ha ucciso mio fratello mi rivendico dobbiamo ritrovarlo perchè non è così tanto lontano mi rivendico di mio fratello mi dispiace per te mi dispiace per te mi dispiace per te è giocato quindi se vedo se vedo che uccidi altri fratelli che io ne ho altri due ti faccio vedere la morte tua andiamo a prendere la barca andiamo a prendere la barca se c'è ecco la tua barca vecchia poi come siamo incontrati c'è neanche la tua barca è vero è la mia barca guida tu che devo sparare è andata verso di là lo so bene sento sopra lo sento dal suo odore stiamo arrivando dark jonesy sta dintro a quel ponte vieni tranquillo che la tua vita è finita ucciso è a terra è a terra è a terra fermo lì dove sei se no saranno guai mani in alto culo in basso e ti muovi ti fracasso fermo sei a terra fermo allora è a terra così stai fermo là adesso ti costruisco la casa migliore di sempre la trappola migliore di sempre questa qua è un ferro molto puro quindi non puoi mai spaccare e tanto se provi ad uscire da qui non puoi perché ci sono butta tutti i tuoi materiali e trappole subito pure le trappole butta 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 vai vai butta 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 pure la tua arma segreta devi buttare quella che stai vedendo in mano tanto l'ho lasciato da una casa non è vero l'abbiamo vista in mano lasciala subito lasciala subito lascia ok non è solo questa ce ne ho 100 proprio ma non è che ha fatto il bug dei permessi ecco ti ripremuto x fede scherzo non ce l'ho ok noi dobbiamo andare via mi faccio male ti ho messo tantissime pratti e anche qua visto anche sopra ehi cavolo ci sono scontrati di costruire qua ma guarda guarda come ho sulla scala c'ho un'idea come fai come fai a uccidere ti sento eh io rimango qua con te eh allora non ho buttato tutte le sue armi dark tricciorato pa lascia stare buttane per terra se no pure i tuoi colpi tutto infatti mi potrei trovare anche un'altra arma ok metto le sue due armi qua qua sicuro grazie e adesso prendi quella e non ti permettere più di uccidere il mio fratello ah si? però ti sei scordato una cosa ah scusate la modifai no no non puoi fede no vabbè fede dopo non puoi mica puoi modificare mica tu sai costruire no no che ingegno poi se facevi il bravo noi mica ti andiamo via andiamo via fidiamo la porta chiave io ho le chiavi ho fatto un ballone ssss ok chiusi ok 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 noi rimaniamo qua ci facciamo sentire ci mettiamo qua nell'angolo no io so cosa fare cosa vieni eeeh spierro da sopra ultimo batman scherzo ciao come stai? bene no no ecco vieni ci metto pure ci metto pure una scala all'entrata ho trovato la chest io ho le chiavi iiii allora apri con la chest ok aprila c'è una bellissima sorpresa c'è una scarpa aprila aprila tutta e vedi fino alla fine ah 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 tanto c'è ancora c'è ancora c'è ancora sono tutte uguali io poi fai aprila però c'è la trap c'è una trap c'è una trap fermo a sparare chi è chi? la conosco questa trappola raga ah 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 addio ii ii topo da 10 giorni festeggiamo tur 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 il mio vecchio amico il nostro vecchio amico ok vedo se ce lo posso fare ormai nostro amico sono vulcora è di gomma quella roba comunque te lo voglio dire è di gomma quella roba te lo voglio dire è di gomma ti ho messo le gomme da masticare stupido e comunque visto che sei troppo grasso saltare che dopo ti dopo cadi capito quindi attento quindi salto e non cadi lo distrugga lo distrugga quindi ho distrutto un pochino non puoi distruggere tanto quindi non puoi distruggere qui andiamo via ti giuro che cambia squadra e ti uccido fe no 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 free days later ok andiamo a liberare mi dispiace un pochino però se fa ancora quelle cagate lo intrappoliamo per tutta la vita e se uccide gli altri fratelli che ne ho altri due ci faccio vedere io come moriranno i suoi fratelli non devo uccidere più nessuno neanche ma io voglio stare qua neanche la sorella manco la sorella sua di tricciorato poi devo uccidere manco altre persone che non conosciamo quindi io ce la io giovanni i retter dark tricciorato sono tutti i nostri amici in questa in questa stagione quindi possiamo pure chiamarli e fare tutti i contro di lui raga io vi sento vi sento pari aspetta amici amici rifugiatevi bene nelle vostre case raga ora ho abilitato è uscito ah è vero è rimasto la porta aperta tanto puoi uscire però basta che non fai più no non sparare basta che non fa più ma sapete che sono god mode io ho fatto un glitch per finta no non puoi fare niente delle glitch niente cagate tu io io ti avevo rimasto la porta aperta e tu potevi uscire ho detto quando non uscire esci basta che se sentiamo uno sparo tanto noi abbiamo le orecchie aperte più delle tue si diventiamo fino a monculi tu tipo sei a pantano e noi siamo a boschi noi ti sentiamo sesso abbiamo le sacche sentire vado dal mio capo ora vi uccide è il suo capo il tuo capo è il nostro amico e non ti farà mai niente lo stesso tanti sono visto a fare un segreto come farlo no comunque io gli ho detto che se ti vede e ti dice una cosa e tu gli dice una cosa lui non ci deve ascoltare quindi possiamo anche andare tranquilli io e Dark ma io ho di più segreti questa qua e ma lo sai che noi abbiamo il libro dei segreti e io ho di più quante patine io ho infinite noi noi infinite e oltre eccole qua boss e là mi sono per uccidere si è seccato proprio adesso chiamo il mio amico più forte di te beh ma ricordate un boss chiama le tue sorelle triccionato poi io chiamo i miei fratelli altri due fratelli e i miei amici venite subito a andarci contro di Dark Jonesy e i fratelli i fratelli angeli venite qua a uccidere questo tizio Dark Jones ti ho detto fermo fermo se no morirò adesso no fermo se no morirò adesso fermo tanto non puoi svolaccare quindi posso andare anche tranquillo le tue mani in questa casetta fa sempre ma col cazzo che ti sblocchiamo il boss tanto è piatto di voi proprio qui ok devo costruire una base enorme attorno a questa bellissima ah! burtissima casa il brumen alla chiave no! la mia non c'è ma io ce l'ho una non è vero non puoi aprire niente puoi aprire qualforziere con i scar dentro diciamo che è tutta una base attorno ma non puoi mai riuscire No, non gli devi chiudere Non gli devi chiudere Anzi, se si chiudi Beh, vila pure se vuoi L'apro Non puoi aprirla Ok Ha detto che apre la cesta là Io ce l'ho mille cesta Apri questa cesta che ti regalo io Oh, ne hai regalato il pompa Ha un pompa, ha un pompa Dobbiamo ucciderlo nella morte Mi sparo in faccia e morite di più Vedi che io sono un hacker Ma non lo d'arretto Non so neanche che cos'è un'arma quello Tanto è anche ben intrappolato Guarda che cosa che abbiamo fatto Ok, devo andare Dai Ciao Allora finisco Allora tengo la live Ok, Leo Ok, Leo Sì Allora, Leo Urriamo insieme Scuscu Tra Tre Due Due Aspetta Tra tre Due Uno Sì Grazie a tutti